Una sfida molto particolare questa volta. Abituati a tre liste negli ultimi vent'anni, questa volta siamo da soli a correre. Ma da soli in maniera fittizia, anche perché avremo un avversario importante, che è quello del quorum, quello dell'assenteismo. E purtroppo i dati dell'assenteismo sono sempre più dilaganti, sempre più ampi, sempre più preoccupanti dal mio punto di vista. Dovremmo raggiungere la legge, ci impone di raggiungere almeno il 40,01% degli aventi diritto al voto. E per Mombaroccio sono circa 650 votanti. Una volta raggiunto quel 40%, il 50% dovrà verificare delle schede valide. E quindi il quorum è doppio, uno dentro l'altro. Che cosa succederà a Mombaroccio nel momento in cui non si dovesse raggiungere quel quorum? Purtroppo si passerà da un'amministrazione comunale, da un sindaco, una giunta, un consiglio comunale, a un commissario prefettizio. E questo sarebbe la fine per il Comune di Mombaroccio, sia nell'ottica dei lavori fatti, quindi tutto quello che sono le progettazioni, i cantieri, tutto quello che è l'obiettivo e i 17 milioni da cantierare e mettere a terra, saranno nelle mani di un commissario che sarà, ovviamente nel rispetto della prefettura di chi lo nominerà, una persona che non potrà presenziare su Mombaroccio, non si potrà confrontare con i cittadini. Quindi io invito i miei concittadini al voto, sia per dare una risposta a tutto quello che è stato fatto e dare continuità al nostro lavoro, ma anche per rispondere a quella che è un'esigenza di un territorio. Il sindaco, non perché sono io, ma perché domani ci sarà qualcun altro, ma un sindaco di un territorio, il primo rappresentante dello Stato, il primo riferimento per il cittadino, quella figura che dà risposta al territorio e ai suoi concittadini, laddove i cittadini si rivolgono per qualsiasi cosa. Penso ultimamente alla fibra, piuttosto che alla sanità, piuttosto che a una miriade di quelle che sono le cose e cui il cittadino necessita e cui l'amministrazione comunale dà e deve dar risposta a prescindere dall'ente di competenza, perché rispondiamo per la provincia, rispondiamo per la regione, rispondiamo per il ministero, rispondiamo a volte anche per l'Europa, ma non può venire meno quel baluardo. Io sono dell'idea che nel momento in cui venissero meno i sindaci, nel momento in cui venissero meno questi baluardi dei territori, le loro amministrazioni, verrebbe meno anche il rapporto del cittadino con la politica e quindi quei numeri che sono sempre più dilaganti dall'assenteismo verrebbero dirompenti e questa è la più grande preoccupazione che ho in questo momento. In tutto questo, in che contesto si presenta Monbarocci in questi giorni precedenti al voto? Ci siamo presentati ai nostri elettori, stiamo girando sul territorio, stiamo facendo quelli che sono gli incontri nei centri civici piuttosto che nelle assemblee pubbliche, ma la cosa che mi preoccupa di più è che purtroppo mi fa vivere la politica nel suo modo più subdolo e che c'è qualcuno che sta lavorando sul territorio per portare la gente a non votare, quindi oltre alla difficoltà che c'è già ed è insita nel raggiungimento del quorum, c'è qualcuno che ha quell'obiettivo e purtroppo lo sta facendo non solo per voler male a me o a Monbaroccio, ma per cercare un percorso successivo, tornare a quel percorso di fusione per incorporazione che loro vorrebbero e come? Raggiungendo una volta portato il commissario prefettizio con 200 firme depositate portare di nuovo al percorso referendario e questo lo vogliamo non solo evitare ma completamente scongiurare.